Con il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia, con il Rossetti, ci eravamo lasciati due mesi fa più o meno quando il fantasma dell'opera chiuse trionfalmente la stagione 2022-2023. Ora la stagione 2023-2024 è pronta a ripartire e noi siamo pronti a seguirla per voi e insieme a voi. Della prossima stagione parliamo in questa sorta di numero zero della nostra trasmissione assieme al presidente del teatro stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Grambassi, con il quale però iniziamo facendo una considerazione che non è che non abbiamo fatto in questo periodo, però giova a ripeterla. Diciamo che quest'anno non c'è stata soluzione di continuità fra la stagione che si è appena conclusa è quella che va ad aprirsi. Fondamentalmente siete stati senza il sipario che si sollevi per due mesi, dai. Sì, diciamo che ormai è da qualche anno che l'attività a Rossetti è senza soluzione di continuità. Vuoi per l'attività interna al teatro, vuoi per quella extramenia, ad esempio Miramare. Questo ha consentito di mantenere vivo il rapporto con il nostro pubblico e di andare ad intercettare anche i pubblici diversi. Effettivamente anche quest'anno è andata così, con l'eccezionalità del Phantom a luglio, con una bella stagione a Miramare e adesso, così tra pochi giorni, la riapertura, l'avvio della stagione 23-24. Vi siete presi una responsabilità notevole per quanto riguarda l'avvio della prossima stagione, perché insomma, debutare con la coscienza di Zeno a Trieste è sempre, non dico un rischio, ma insomma, è più significativo che in altri luoghi, è più significativo che in altri teatri, se vogliamo. Sicuramente è un'opera che Trieste sente molto propria, ma Paolo Valerio sta facendo un grandissimo lavoro e offrirà al pubblico triestino, ma al pubblico di tournée, ricordiamo che il nostro spettacolo andrà in giro per tutta Italia, una versione veramente diversa, particolare, di coscienza di Zeno, oserei dire qualcosa di mai visto, per come l'ha concepita il nostro direttore. Sto entrando in questo personaggio, un personaggio inaspettato, non pensavo mai, come se me l'hanno proposto. So di certo che questo testo di Svevo, la coscienza di Zeno, lo voleva fare in un film, Strader, Giorgio Strader, il grande Giorgio Strader, ho avuto anche la fortuna di conoscere, e so che era in ballo, cercava due attori per il film, ed era in ballo fra Marcello Mastroianni e Peter Ottuli, Paolo Valero, direttore del Teatro Stabile di Trieste e regista dello spettacolo, ha scelto me. Avete capito? Io sono fra Tull e Marcello, comunque ne vedremo delle belle, sarà uno spettacolo, credo, proveremo fino agosto e credo che ci divertiremo, voglio fare un personaggio... Vabbè, poi in questo momento sto riflettendo, ma io penso che sarà un bel viaggio, un viaggio che faremo con una bella compagnia, Paolo è una persona fantastica, è un uomo generoso, aperto anche a ricevere un personaggio come me che non sono facile, insomma, no ma sarà un bel viaggio, non vedo l'ora di cominciare, non vedo l'ora di essere lì da voi e abbracciarvi tutti. Vi aspetto, baci, ciao, abbe. Abbiamo appena visto questa mattina la presentazione dello spettacolo, quindi siamo tutti abbastanza curiosi di vedere poi come andrà avanti. C'è da dire questo anche, forse, no? Sempre più, e forse questa versione della coscienza di Zeno lo rappresenterà in maniera plastica, come dire, non c'è diritto di prelazione nel mondo del teatro di una città su determinati testi o addirittura di un teatro su una certa lingua, nel senso che La coscienza di Zeno è un testo che va bene dappertutto, parte magari da Trieste, ma come, che so, La tempesta di Shakespeare oppure Chekhov, ormai non si può parlare più di teatro italiano, di teatro britannico, di teatro russo. È vero, anche se una delle caratteristiche così di questa direzione del Rossetti è quella proprio di andare a scavare nei nostri giacimenti culturali cercando di valorizzarli il più possibile. Ricordiamo anche così il bellissimo rapporto che è stato instaurato con Mauro Kovacic, con questa trilogia dedicata ai tre grandi della nostra letteratura. Dico nostri perché Joyce a tutti gli effetti consideriamo uno dei nostri. Ecco, quindi anche lui debutta subito dopo Coscienza con Saba per portare poi il suo svevo poco dopo e quindi così sarà una riscoperta non un inedito perché l'abbiamo già visti, però così una riscoperta per tutti quelli che non hanno visto questi spettacoli che sono veramente degli spettacoli da non perdere. Allora, la campagna abbonamenti è iniziata, la campagna abbonamenti procede, dobbiamo ricordare anche questo, dobbiamo ricordare anche che siccome non state mai fermi, rispetto al cartellone che è stato presentato a giugno, se non vado errato, ci sono anche delle novità, insomma. Sicuramente a giugno ne abbiamo presentato l'essenza del nostro cartellone, ma avevamo preannunciato che ci sarebbero state delle novità importanti e novità importanti ci sono e ci saranno, le abbiamo annunciate questa mattina e direi prima fra tutte SIX, questo musical fantastico, scritto da dei giovanissimi, quando l'hanno scritto avevano 23 anni, magari faranno anche loro una carriera tipo Andrew Lloyd Webber, perché ricordiamo che anche lui era partito giovanissimo con il suo primo musical. L'hanno scritto per il teatro universitario, da lì è passato ad un festival importante, dal festival è passato a un teatro piccolo di Londra, da lì West End, da lì Broadway e lo portiamo noi per la prima volta in Italia. Un modo inedito per raccontare la storia perché SIX parla delle sei mogli di Enrico VIII. Ma allora è roba mia, insomma, quindi sì. Sì, è come un grande concerto pop trasformato in musical, ma con così questa divagazione storica molto interessante, ma allo stesso tempo molto molto divertente. Altra cosa così che ci tengo a sottolineare, che per la prima volta in Italia portiamo Candace Bushnell. Chi è Candace Bushnell? Forse non tutti conoscono il suo nome, ma tutti noi conosciamo Sex and the City. Conosciamo Carrie Bradshaw, che è il suo alter ego. Candace Bushnell è la creatrice di Sex and the City, verrà a Trieste, anche questo per la prima volta in Italia. Farà una mini tournée organizzata da Rossetti in altri teatri italiani ed è un grande nome della scena internazionale che così ci farà l'onore di essere presente all'interno del nostro teatro. Molti sono anche gli appuntamenti con la musica, molti sono anche i concerti. Ho visto uno su tutti, Massimo Ragneri, e quest'anno non me lo perdo. Segnale questo, come posso dire, è quello che noi diciamo sempre, e noi diciamo magari delle volte anche per bonariamente prendervi in giro, veramente, che non state mai tranquilli e per certi aspetti non fate in modo che nemmeno noi siamo mai tranquilli. Però al di là di questo significa anche non dare una stagione per scontata, non darsi per scontato, cioè significa, consentimi di mutare dal linguaggio nostro, stare sul pezzo. Sì, mi fa piacere che tu lo sottolinei e che questo venga percepito, perché siamo sempre alla ricerca così di un'offerta che non sia scontata, che non sia banale, che non sia il già visto, ma così di arricchirla sempre di qualche novità, di qualche cosa che diventi un privilegio per il nostro pubblico poter vedere magari in esclusiva nazionale, perché il nostro pubblico se lo merita. Ultima domanda, in una stagione così e così densa di appuntamenti, così ricca di spettacoli, questo a noi piace chiederlo e ogni volta lo facciamo, si riesce ad individuare un filone sugli altri che non sia per esempio quello dei grandi nomi, perché questo è ormai assodato. Ma i filoni che abbiamo individuato sono parecchi, perché così è tradizione del Rossetti seguire proprio dei filoni per argomenti e per generi. I grandi nomi inevitabilmente ci sono, ci fa piacere averli, ma ci sono anche i grandi spettacoli che non è sempre detto che ci abbiano i grandi nomi. E quindi così vediamo dei spettacoli di altissima qualità dove magari gli interpreti non sono conosciuti al grande pubblico e peraltro grandi spettacoli con interpreti molto conosciuti, vuoi con un grande regista, vuoi con un grande protagonista o più grandi protagonisti. Quindi il mondo del teatro è molto vario e sta così un po' al nostro team andare a scoprire e a scovare quelle che sono le offerte in giro per il mondo, non solo in Italia. Ad esempio Candace Bush ne abbiamo scoperto a New York che aveva in programma questo spettacolo e hanno detto perché non lo portiamo a Trieste. Chiudiamo facendo una cosa che di solito si fa alla fine dei cicli, ringraziando in antissimo ma ricordando anche e soprattutto il lavoro enorme di chi sta dietro le quinte. Lavoro pazzesco, il team dei Rossetti è un team che io non mi stancherò mai di dire eccezionale in tutte le sue componenti a partire dal direttore per passare a Stefano Curti che è il padre del musical a Trieste e in Italia mi permetto di dire la nostra direttrice di produzione Roberta Torcello ufficio stampa con Ilaria Lucari la parte tecnica Giovanazzi da parte amministrativa guidata da Maura Catalano quindi veramente un team molto molto competente molto appassionato e affiatato anche se come in tutte le famiglie anche tra di noi si litiga ogni tanto ma inevitabile anzi dal litigio magari vengono fuori le cose più belle che bello ritornare a Trieste io amo tanto Trieste mi piace il teatro di Trieste mi piace il Politeama Rossetti dove ho recitato tantissime volte e vi porterò un curioso accidente di Goldoni e vi aspetto tutti ditelo anche ai vostri amici e vi aspetto a tutti i nostri amici